Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ma se Gesù è morto 2000 anni fa, io che centro con Gesù? Invece no, ho realizzato che quel sacrificio che lui aveva fatto 2000 anni fa era anche per me, che ero nata in questa generazione. Noi siamo in te, hai sconfitto questo mondo re. Il prezzo dell'anima nostra è un prezzo veramente alto. Il salario del peccato, dice San Paolo, è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Grazie a tutti.